La parola al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Caro sindaco, care autorità a tutti, cari sindaci, stavo sinceramente apprezzando il professionismo di Franceschini, che stava per dire anche che non ti fa più per la spalla, cioè è una cosa impressionante. Sono davvero felice di poter condividere con voi la gioia di questo momento, non inaugurale, ma quasi, dell'anno in cui Mantua è la capitale italiana della cultura. È stata davvero una buona idea quella del Ministro di dedicare ogni anno un particolare sguardo carico di attenzione e anche di impegni economici, culturali, morali, vorrei dire, a una città che quindi viene chiamata in ogni periodo a progettare se stessa, a ripensare se stessa. È davvero un'ottima intuizione. Se a questo si aggiunge lo sforzo davvero rilevante che l'amministrazione guidata da Mattia Palazzi sta facendo e che io credo che otterrà sempre di più un sostegno forte del Governo in una dimensione di grande desiderio di futuro, perché questa è una delle sfide più difficili per una città della cultura, per una città artistica, per una città del bello, essere talmente innamorata del passato che talvolta uno non riesce neanche a voler bene al futuro. Invece credo che quello che si, che trapela, che si riesce a vedere dall'esterno dell'impegno di questa amministrazione è esattamente essere innamorata pazza del futuro della città e non soltanto del passato. Bene, se questo continuerà credo che avremo tutto il modo di poter collaborare insieme nei prossimi anni con determinazione e convinzione. Ma prima di entrare nel merito della riflessione sulla città di Mantua e su ciò che l'Italia si aspetta da lei, vorrei rispondere insieme a voi a una domanda che mi hanno fatto ieri sera, dicendo scusa Matteo, ma con tutto quello che sta succedendo in Europa, a livello mondiale, con tutte le tensioni che si stanno registrando e che sono per alcuni aspetti anche tensioni inedite, geopolitiche, culturali. Che senso ha continuare a girare per l'Italia il sabato e non soltanto il sabato in luoghi che sono si belli, importanti, significativi, ma che non sono i luoghi al centro della discussione planetaria, che non sono i luoghi al centro della discussione europea. Credo che sia esattamente questo l'obiettivo che il governo italiano, ma lasciatemelo dire, mi piace pensare di rappresentare tutto il Paese, non soltanto una parte, sta cercando di porre all'attenzione del dibattito globale. La fase politica, diplomatica, anche militare che stiamo vivendo, ha degli elementi davvero di preoccupazione, ma c'è una convinzione profonda che è quella che ci unisce. Quando il terrorismo attacca, non sta attaccando in dei luoghi a caso, attacca in dei luoghi che sono i simboli della nostra identità. È come se il terrorismo, il terrorismo internazionale, avesse ben chiaro ciò che vuole colpire. Magari i media non ne parlano con la stessa attenzione, ma in questa settimana, una volta di più, è stata colpita una università in Pakistan. Era già accaduto in Kenya, era già accaduto in tante parti del mondo di andare a colpire delle scuole, dei luoghi di educazione. E se ci pensate, i musei sono stati oggetto di attacchi, pensate a ciò che è accaduto a Tunisi. In Europa si è fatto ancora di più, si sono colpiti i luoghi della identità, un teatro al Bataclan, una redazione di un giornale ancora a Parigi, ma anche i luoghi della quotidianità, i luoghi nei quali donne e uomini vivono la propria esistenza, un ristorante, uno stadio. È come se il terrorismo avesse ben chiaro che l'obiettivo è minare alla radice il nostro modo di vivere, ucciderci o, se non ce la fa, costringerci a vivere nella paura. Mattia oggi ha detto delle parole molto belle quando ha detto che noi non ci rassegniamo a vivere nella paura e che noi non rinunciamo a gustare, difendere, tutelare e incoraggiare la bellezza come elemento qualificante della nostra identità. Essere dunque in marcia, in cammino, con i sindaci, gli amministratori locali, le autorità del territorio, con i cittadini, ma anche con l'azione del Governo, non è semplicemente un tour turistico, un grand tour a scoppio ritardato che facciamo nelle singole città. È il desiderio di dire innanzitutto a noi stessi che il ruolo dell'Italia oggi è quello di affermare una risposta possibile alla crisi che il nostro tempo sta vivendo. Non è dunque semplicemente un elenco di liste di cose amministrative da fare. Poi chi fa l'amministratore sa che è fondamentale. Chi fa l'amministratore sa che la misura dello sblocco del patto di stabilità, che porterà su Mantua 20 milioni di investimenti, è una misura che è forse la misura più sottovalutata dell'intera legge di stabilità e quella che darà i risultati migliori, molto più di tante altre. Lo dico io, che pure costantemente in televisione racconto la bellezza e l'importanza di tante cose che abbiamo fatto. Ne sono convinto. Ma se c'è una misura che avrà un effetto immediatamente di sostegno alla crescita italiana sarà proprio quella dello sblocco del patto di stabilità. Ieri ne parlavo con alcuni colleghi sindaci, i vostri colleghi sindaci, ex colleghi per me, mi davano una stima del lanci di oltre 3 miliardi di euro. Conoscendo le stime del lanci ho detto cala, cala un po'. Nel senso che sono ottimisti quelli del lanci, infatti vengo di lì. Ma credo che sia abbastanza credibile immaginare che nell'arco del 2016 almeno 2 miliardi di euro più dello 0,1% del PIL sarà sbloccato ed è già sbloccato nei fatti da quella liberazione, da questi vincoli assurdi. Dunque c'è un tema concreto, è fondamentale ed è bellissimo sentire la passione con cui il sindaco Palazzi prova a parlare di questioni puntuali, immediate, singoli investimenti, non soltanto sulle realtà culturali. Ciascun sindaco che è qui ha probabilmente non soltanto quel cittadino che gli chiede di mettere a posto il marciapiede, ma ha il desiderio profondo di lasciare un segno, di vedere finalmente realizzate opere che sono bloccate da troppo tempo. Tuttavia questo tipo di passione amministrativa che tutti noi mettiamo si inserisce in un contesto diverso. Lo ha ricordato il ministro Franceschini. Noi siamo l'Italia, guardatevi, guardate che meraviglia che è questo luogo. Essere l'Italia significa dire che in un mondo in cui qualcuno vive di paura o vorrebbe farci vivere nella paura noi dobbiamo ricordare il valore straordinario della cultura e della bellezza come elementi che cambiano il mondo. In un mondo nel quale qualche estremista insegna ai bambini, andate a guardarlo su YouTube, che la musica è peccato, che la musica è un problema, che la musica è è qualcosa da cui scappare. Essere qui, in un luogo nel quale Mozart bambino, dodicenne, deliziò i vostri concittadini del tempo, significa dire che la musica per noi non è un passatempo o un ammazzatempo è la risposta profonda a una domanda di senso che il nostro cuore anela. Ecco che sostenere che si devono fare degli investimenti per Mantova non significa semplicemente, come credo che sia corretto dire, che ci si prende cura di una comunità, ma si risponde a quella straordinaria, bellissima, frase del poeta italiano, ma non vorrei fare classifiche perché avrirei una discussione altrettanto rilevante rispetto alla mia città d'origine, ma insomma, del grande Virgilio che nell'Eneide scriveva, perseverate e serbatevi a migliore avvenire, che è un po' il motto, credo, di questo Paese, durate, et vos meterebus servate secundis, è il motto di questo Paese, perseverate e però preparatevi a un futuro diverso, più grande, più significativo. Sta qui la grandezza dell'Italia, sta qui il fatto di dire che quando qualcuno fuori dall'Italia immagina di poter affermare che il problema dell'Europa è Schengen e quindi bisogna chiudere le frontiere, immaginando che questo ci metta al riparo, bisogna avere la forza di dire che chi mette in discussione l'idea di frontiera in Europa non soltanto fa un passo indietro rispetto alla storia, ma tradisce l'idea stessa di identità europea. Chi mette in discussione oggi l'idea della libera circolazione afferma una vita basata sulla paura e non si rende conto che i principali attentatori del 2015 erano nati e cresciuti in Europa, erano nati e cresciuti nelle periferie del nostro scontento, erano nati e cresciuti in luoghi dove la cultura aveva abdicato rispetto alla sua funzione. Perché quando le periferie, siano esse a Parigi o a Bruxelles o in altre città, smettono di essere luoghi con un'anima e diventano privi di qualsiasi tratto identitario e identificativo di una città e diventano soltanto dei luoghi senza anima, perdono l'idea stessa di appartenenza alla civitas, alla città, quando accade questo è lì che nasce il nichivismo, è lì che nasce il terrore. L'antidoto al terrore è la cultura. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo affermare. E nella cultura ci inseriscono non soltanto la musica, non soltanto il teatro, non soltanto la letteratura, non soltanto il rinascimento, su questo andiamo ampiamente d'accordo. Ci metto anche un'idea di Paese, una certa idea dell'Italia che deve essere quella per la quale noi ci facciamo sentire, non in una logica rivendicativa ai tavoli europei. Nessuno di noi fa le bizze nei tavoli europei, noi non siamo quelli che vanno in discussione con l'Europa per chiedere qualcosa in più. C'è questa visione da logica di scambio, di rivendicazione sindacale, che è la cosa più lontana dall'azione del nostro governo. Noi non andiamo in Europa a chiedere più Europa perché vogliamo qualcosa in più per l'Italia. Certo, pensiamo che l'interesse nazionale non sia una parolaccia. Gli altri 27 Paesi non hanno paura di affermare un interesse nazionale e di difenderlo. E io certo non rinuncerò a difendere l'interesse nazionale. E io certo non penso che per essere credibili in Europa si debba sempre dire di sì alle richieste degli altri, ignorando di far parte di una grande comunità che si chiama Italia e che ho l'onore di rappresentare. Ma credo che l'interesse nazionale che noi possiamo e vogliamo difendere, questo interesse nazionale trovi naturale corrispondenza in un sogno europeo. Per cui, dopo che l'Europa dei padri ha salvato questo continente da anni, decenni di guerre e di tensioni, oggi è arrivato il momento di costruire l'Europa dei figli. Esattamente come per Mantova vale la pena perseverare e serbarsi a migliore avvenire. Anche per l'Europa la frase di Virgilio ha un senso. Non è un caso se venerdì prossimo, dopo aver incontrato Angela Merkel a Berlino, abbiamo deciso con il ministro Franceschini di dedicare il sabato successivo. L'anno scorso eravamo a Caserta, abbiamo fatto Pompei, Caserta, Mantova, toccava Matera. La rinviamo di qualche giorno, non si offenderanno gli amici materani che tanto sono pronti a una grandissima iniziativa, quale quella della capitale europea, della cultura del 2019, ma andremo a ventotene sabato prossimo, insieme al ministro Franceschini, perché andremo a dire una cosa semplice, che il grande ideale dell'Europa, al quale noi attribuiamo straordinaria importanza e significato, ha bisogno di essere anche in questo caso serbato per un più grande avvenire e ha bisogno di essere rilanciato. Esattamente il giorno dopo l'incontro di Berlino ci recheremo a ventotene con un progetto culturale, con dei denari da investire, perché è assurdo che quel luogo caschi a pezzi, ma contemporaneamente con un messaggio da dare alle nuove generazioni, le quali hanno bisogno di noi, hanno bisogno del nostro entusiasmo, hanno bisogno della nostra passione. Basta con la rassegnazione del vittimismo di chi continua a dire che va tutto male in Italia. Certo, ci sono dei problemi? Sì, ovvio. Quale Paese non ha problemi? Lo sapete anche voi, sul vostro territorio, questa settimana di difficoltà, nei primi giorni della settimana sulle banche, la conoscete bene per scelte fatte nel passato, che qualcuno può condividere o meno, e che hanno riguardato anche, viste le tensioni sul mercato, anche il vostro territorio, come tutto il territorio nazionale. Ci sono state tensioni? Continueremo a vivere momenti di grande difficoltà a livello geopolitico. Abbiamo un petrolio che è sotto i 30 dollari, questo significa che è naturale vedere tensioni geopolitiche internazionali di grande rilievo. Abbiamo una situazione di attesa a livello internazionale. Quest'anno è l'anno in cui si elegge un nuovo Presidente negli Stati Uniti. Abbiamo fenomeni di rallentamento in Cina. Abbiamo due Paesi europei, i Paesi più importanti dell'Europa dal punto di vista numerico, che sono la Germania e la Francia, che si accingono a campagne elettorali difficili e delicati. Voteranno nel 2017. Abbiamo un Paese, il Regno Unito, che vuole uscire dall'Euro. Abbiamo la Spagna, che fino a qualche anno fa era considerata il modello di stabilità, che è in una situazione di difficoltà sulla formazione del Governo. Il miglior spot possibile della legge elettorale che abbiamo approvato in questa legislatura sta avvenendo non dall'Italia, ma dalla Spagna, dove si vede che quel meccanismo non funziona più in un sistema che non è più bipolare. E si capisce che il meccanismo italiano, che richiede un ballottaggio, non quindi che dà un premio esagerato a quello che arriva prima, ma che richiede un ballottaggio, quindi restituisce la scelta ai cittadini, come accade per i sindaci. Io sono uno di quelli che quando ha vinto ha vinto al ballottaggio, non al primo turno. Esattamente come accade per i sindaci garantisce però stabilità per cinque anni, garantisce che un Governo, che sia una giunta locale o che sia un Governo nazionale, possa andare avanti per cinque anni. Bene, in questa cornice di grandi difficoltà l'Italia c'è. L'Italia c'è, è un Paese che sta attraendo investitori internazionali. Tu hai fatto vedere, Mattia, giustamente l'attenzione per le app. È interessante notare come questo mondo, che magari per qualcuno può sembrare un mondo strano, è un mondo che avrà in prospettiva, sostengono le ultime ricerche, circa 100.000 posti di lavoro nei prossimi mesi. Perché è evidente che sta cambiando tutto e un telefonino oggi diventa non soltanto il luogo, il modo per telefonare, ma anche il luogo per avere dei servizi, lo strumento attraverso il quale si hanno dei servizi. E naturalmente questo cambia, si trasforma un pezzo di economia. Ha ripercussioni in tanti settori. Ma quanto è bello e importante che nell'ultima settimana Cisco e Apple, due grandissime aziende globali, abbiano scelto di investire in Italia. Abbiano scelto il Sud, non soltanto il Sud, ma anche il Sud. E quanto è importante che in questa settimana questa scelta di semplificazione e di investimento sul futuro che il Ministro Franceschini ha ricordato nel suo di castero di competenza, si sia allargata alla riforma della pubblica amministrazione. Lo dico ai sindaci. Tutti noi sappiamo che la conferenza dei servizi è uno strumento finalizzato a semplificare, a rendere più facile il rapporto con i cittadini e con gli uffici, che spesso diventa un luogo più complicato in cui davvero si deve lasciare ogni speranza per chi entra. Una sorta di terapia di gruppo di amministratori in cerca di identità. Le conferenze dei servizi sono un luogo nel quale qualche amministratore perde la testa pensando, per esempio, alle difficoltà che arrivano anche dal Governo centrale. Noi prendiamo un impegno con voi. Alla conferenza dei servizi che durerà al massimo, che sarà per scelta telematica, a meno che non ci sia una particolare complessità, alla conferenza dei servizi che vedrà durare il procedimento al massimo cinque mesi, il Governo, lo Stato centrale, partecipa con una sola voce. Questa qui non è scritta da nessun giornale, non è passata dal dibattito dei quotidiani. I sindaci la sanno bene, perché un sindaco sa che se ottiene il permesso di quel ministero, poi gli scappa un altro ministero o un'altra autorità centrale dello Stato che cambia l'opinione. Questo lavoro lo facciamo a Monti. È il Governo, è il Consiglio dei Ministri che sceglie chi è quell'interlocutore su quel progetto, uno solo, e quando si mette al tavolo della conferenza dei servizi o alla tastiera della conferenza dei servizi, poi non c'è spazio per poter cambiare idea dopo. È un fatto molto importante, molto rilevante. È quello che è accaduto in questa settimana. Ed è accaduto, caro Mattia, anche un altro fatto che io giudico particolarmente significativo, e cioè che il Senato per la terza volta, 2014, 2015 e 2016, negli ultimi due anni, ha votato il proprio superamento. È una cosa alla quale non credeva nessuno, neanche Franceschini, ma è una cosa che è di una bellezza unica. È il senso che la politica fa il proprio mestiere, che la politica è capace di vincere la propria autoreferenzialità e che l'Italia si è rimessa in moto. C'è per far che? Si è rimessa in moto per tornare a fare l'Italia, a fare quel luogo scrigno di bellezza che non utilizza la propria bellezza soltanto come ricordo, ma la utilizza come tentativo di dire che c'è bisogno di alcuni valori nel mondo. Il 2015 è stato l'anno delle riforme. Che il 2016 sia l'anno dei valori. Che il 2016 sia l'anno in cui l'Italia torna a chiedere all'Europa più idealità e più identità. Che sia l'anno in cui l'Italia offre al mondo con i caschi blu che ricordava Dario e che nel febbraio del prossimo anno, nel febbraio di quest'anno, chiedo scusa, tra qualche settimana vedranno una firma importante con l'UNESCO e con autorevoli istituzioni di tutto il pianeta, questa Italia si sta facendo sentire. Abbiamo però bisogno, e ho finito, che questa Italia sappia che dopo aver fatto tutte le riforme di questo mondo abbia la consapevolezza di dire che le riforme di per sé servono a poco. Lo sguardo di panico in platea. Sono due anni, caro Matteo, che ci stai distruggendo la vita con l'elenco di riforme. La Costituzione, la legge elettorale, la scuola, la pubblica amministrazione, il Jobs Act. A proposito, questa settimana sono usciti i dati dell'Inps più 510 mila posti di lavoro a tempo indeterminato. E meno male che il Jobs Act non funzionava, perché se avesse funzionato sarebbe stato un problema, davvero. Ma dopo tutto questo elenco di riforme dobbiamo avere la consapevolezza che non serve a niente cambiare il Paese se questo Paese non ritrova la propria funzione nel mondo. E senza la cultura l'Italia non ha un ruolo nel mondo. Ecco allora che io invito gli italiani che ci stanno seguendo da casa, che vedranno nei prossimi giorni gli articoli, i giornali, a visitare Mantova. E non per fare un piacere agli albergatori mantovani o all'indotto mantovano, che pure è forte anche per altri motivi. Naturalmente, dice il Sindaco, schifo non fa, tutt'altro. Ma invito a visitare Mantova per ritrovare se stessi. Invito a visitare Mantova con le proprie famiglie. Invito a non cedere alla cultura che l'Italia è il Paese in cui va tutto male. Meravigliamoci di fronte alla bellezza di queste nostre città e di questa città. E meravigliati di fronte alla bellezza troviamo l'orgoglio, la determinazione e la grinta per rilanciare l'Italia nel posto in cui deve stare. E il posto in cui l'Italia deve stare è la guida di un'Europa che non siano soltanto numeri e burocrazia, ma siano passioni, valori e coraggio, e che sia un mondo nel quale non ci si limiti ad essere dei numerini, ma ci sia delle donne e degli uomini, delle cittadine e dei cittadini. Ci sia cioè capaci di affermare un semplice, piccolo, banale punto di vista. Quando noi diciamo per un euro investito in sicurezza, un euro investito in cultura, noi non stiamo raccontando semplicemente una misura di bilancio. Noi stiamo dicendo che faremo tutto il possibile perché l'Italia sia nelle condizioni di prendere per mano i nostri fratelli e sorelle europei e smettere di vivere nella paura e nel terrore e tornare a fare quello che per secoli ha significato la cultura a Mantua e altrove. Apertura, tolleranza, coraggio, innovazione. Durate et vos meterebus servate secundis. Perseverate, caro Mattia, cari amici mantovani, e serbatevi a un avvenire che è la sfida più grande per un sindaco e per dei sindaci. Costruire il futuro in una città talmente bella da far venire alle vertigini, ti garantisco che è un'esperienza difficile perché ci sono passato anch'io, ma serbarsi a un avvenire degno di questa città è forse la sfida più grande per un sindaco, per un amministratore. Il governo italiano è a vostra disposizione e con questo spirito vivremo il 2016 con Mantua, capitale italiana della cultura, non semplicemente garantendo l'afflusso di risorse, perché poi Mattia ha fatto un bellissimo discorso qui, poi mentre stava salendo Dario mi ha detto ci sarebbero quei 17 milioni per il palazzo che mi mancano ancora, quindi avete degli amministratori competenti e bravi e neanche troppo diplomatici nell'andare a battere cassa, come è giusto che sia, ma accanto all'afflusso di quattrini non dimentichiamo mai che abbiamo una grande responsabilità che è quella di dire alle nuove generazioni che se siamo così è perché abbiamo un ruolo per il futuro, non siamo soltanto un museo della memoria, siamo un laboratorio di speranza e dobbiamo essere all'altezza di questa grande responsabilità. In bocca al lupo Mantua.